Ormai il Black Friday è entrato a far parte delle nostre abitudini. Nato in America è il nome informale utilizzato per indicare il venerdì successivo al giorno del ringraziamento e negli USA è considerato l'inizio della stagione delle compere natalizie e dei saldi. In Italia si è diffuso prima online, in particolare su Amazon e poi anche nei negozi fisici. Oggi il Black Friday è l'ennesima occasione per fare acquisti di ogni genere a prezzi scontati, cosa che quest'anno è forse ancora più utile del solito visto il carovita galoppante. Tuttavia, come tutte le iniziative di shopping con forti sconti su larga scala, anche il Black Friday può diventare un'occasione per mettere a segno delle truffe o più semplicemente per vendere degli scarti di magazzino facendoli passare per merce nuova. Il Black Friday online, specialmente quello su Amazon, è molto più complesso perché può essere frenetico. Offerte del giorno, offerte lampo, offerte inaspettate, c'è un po' di tutto e non bisogna né farsi prendere in giro né confondersi o scoraggiarsi. Grazie. 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 Grazie.